www.feyyaz.tv Questo è un luogo molto intenso, pieno di ricordi per me, pieno di cose, eccetera, e poi il centro di Torino è un salotto, una cosa straordinaria, questa galleria. È come se questa cornice che dicevo prima che investe e che gira da quel punto fosse il contenitore di questa grande pittura. E poi ci fossero dei segni, proprio dei miei segni, che sono quasi dei grovigli, ma molto energetici, con delle tensioni, eccetera, tra l'uno e l'altro, che intervengono nello spazio. E questo segno luminoso voglio che faccia parte di una mia storia, di un mio lavoro. È per quello che ho pensato questo grande quadro blu. A presto, a presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.